Salve a tutti, sono Antonio Brilla e provengo dall'Istituto Alberghiero Acosta Smeralda di Arzachena. Oggi vi presenterò un Purple Rain, di cui ingredienti sono Vodka alla pesca, Rum, Blue Curaçao, Gin, Schweppes Lemon e Granatina. Vado a raffreddare il bicchiere, raffreddato con lo shaker. Vado ad introdurre gli ingredienti. 1,5 cl di Vodka alla pesca, 1,5 cl di Rum, 1,5 cl di Gin e 1,5 cl di Blue Curacao. Usarò il metal pure da un'altra bottiglia. Vado a mettere il ghiaccio. . . . . . Ora scolare l'acqua Vado ad aggiungere il cubetto di ghiaccio Vado ad allungare con la shrubs E aggiungo la granatina Vado ad aggiungo la granatina Vado ad aggiungo la decorazione Una fettina di limone Vado ad aggiungo la granatina Vado ad aggiungo la granatina